Zyme in greco antico vuol dire lievito e la cantina Zyme, come preferisce chiamarla il proprietario Celestino Gaspari, rappresenta perfettamente la simbologia del lievito, la trasformazione, la metamorfosi, l'evoluzione continua. Nel rispetto assoluto per l'ambiente, che viene coccolato e preservato perché possa diventare un habitat ideale in cui l'uomo possa vivere e interagire con la natura, nascono i grandi vini firmati da Celestino. Kairos, ancora il greco antico, l'occasione, il momento opportuno, rappresenta un progetto straordinario, una sintesi di ben 15 vitigni, di cui 4 a bacca bianca e il resto a bacca rossa, che vengono raccolti in base alla maturazione e via via adagiati su dei platò fino al termine della vendiglia. Successivamente il vino viene elaborato con una permanenza in barrique di rovere francese di ben due anni. Dopo un ulteriore lungo periodo di affinamento in bottiglia, il vino si presenta nel calice di un meraviglioso, concentrato e luminosissimo colore rosso rubino, naso sontuoso, opulento, appagante. Si riconoscono profumi nitidi di frutti rossi maturi, amarena, ciliegia, mora e ancora un corredo di tostatura fatta di cacao, caffè, spezie dolci, tabacco, gudron, un accenno balsamico e un lieve tocco di mineralità fatta di grafite e leggeri toni fiume. Al sorso il vino è una sintesi perfetta di freschezza, sapidità, buon tenor alcolico, tannini rotondi e vellutati, capacità di avvolgenza e lunghissima persistenza gusto olfattiva in cui vengono cadenzate tutte le sensazioni aromatiche che abbiamo percepito direttamente all'olfatto. È un grandissimo vino rosso da servire in accompagnamento a piatti ricchi, conditi, salsati, in particolare i grandi arrosti e i grandi piatti di cacciagione. Con l'invecchiamento diventa un ottimo compagno per formaggi stagionati, saporiti e piccanti e soprattutto per la conversazione con i nostri amici più cari.